Una ricercatissima linea di cravate e foulard per la reggia di Caserta, ispirata a particolari elementi artistici e architettonici del monumento vanvitelliano. La Maison Cilento, fondata a Napoli nel 1780, firma questa nuova linea di accessori di moda di alta qualità dedicati, a testimonianza dell'impegno, della passione, della sapienza artigianale e creativa del territorio di cui la reggia è espressione. Ugo Cilento, patron della storica casa, ha scelto ciascun soggetto artistico della reggia di Caserta da rappresentare sui tessuti, selezionando quelli che gli trasmettevano maggiormente creatività e passione artistica. I disegni scelti sono Ercole, la Fontana di Venere, un particolare della Sala Reale, il trono e il logo della reggia di Caserta. Per me è un motivo di grande soddisfazione affiancare il mio marchio a fianco a quello della reggia di Caserta. Non a caso la reggia di Caserta ha aperto i battenti nel 1774, praticamente sei anni prima della mia azienda, nel 1780. Per me è un percorso che ormai è da circa vent'anni che mi dedico alla rivalutazione del territorio di tutta Italia, in particolare al regno delle due Sicilie nel massimo splendore del periodo vanvitelliano. Presentata la linea di cravate, tutte confezionate a mano nei laboratori di Napoli e i fulà ricchi di dettagli, in anteprima nel teatro di corte della reggia vanvitelliana, alla presenza del direttore Mauro Felicori. Piuttosto che fare dei prodotti nostri, preferiamo legarci a aziende che abbiano nel tempo, in questo caso nel lungo tempo, dimostrato grande qualità, che noi da soli non raggiungeremo. Quindi facciamo come dei matrimoni o tanti fidanzamenti con imprese di grande qualità. In questo caso è molto azzeccato perché Napoli ha una tale tradizione nel campo della Sartoria che dovevamo per forza scegliere un punto altissimo e l'abbiamo fatto.